Benvenuti durante quest'anno di arrivare, di generare e pregare la legge nel Santissimo. Siamo oggi insieme. Pregheremo insieme. Andiamo a cominciare, so che avete già pregato allo Spirito Santo lo stesso. Cominciamo adesso di nuovo. Abbiamo bisogno di questa luce. Preghiamo tutti. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni. 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 Grazie.